Una patologia che riguarda anche i più giovani di cui si parla sovente come in questo convegno organizzato dal dottor Valdo Paolone reparto oculistica casa di cura Pierangeli e dalla segreteria scientifica il titolo gestione chirurgica di casi particolari di cataratta perché come ci spiega il dottor Paolone classicamente dai nostri colleghi viene indicata col nome cataratta una patologia in modo generico invece sono differenti tipi di cataratta secondo dei casi che ci vengono proposti ci sono quelle cosiddette cataratte complicate ricordiamo quello posto in glaucoma quello in diabetico quelli sublussate quelle post traumatiche quindi è un nome generico che sta a indicare purtroppo nella popolazione una patologia che può essere non semplice come normalmente viene caratterizzata dal credo che esiste ma bensì esistono delle cataratte che purtroppo hanno delle problematiche molto maggiori. Si sono fatti passi avanti in tal senso? Eh sì come ha detto il professor Mastro Pasqua praticamente con l'aiuto del Fenton Laser e via dicendo si sono ridotti molti i casi di complicanze che si possono avere anche se comunque è un intervento chirurgico che richiede una particolare accortezza da parte del chirurgo. Una patologia diffusa anche tra i più giovani? C'è un'incidenza anche in età più non solamente anziana quindi superiore ai 60 anni anche sotto l'effetto di particolari tipi di farmaci come cortisonici e via dicendo. Com'è possibile curare la cataratta anche se lei ha detto che ce ne sono di varia tipo? Eh fondamentalmente con l'atto chirurgico.